da giugno 2016 fra gli altri servizi le ali pubblica assistenza di ampas si occupa anche di unità di strada significa che si occupa di assistere i senza dimora e gli adulti che versano in situazioni di marginalità portando un piatto caldo una coperta o anche solo ascoltando con l'emergenza covid le nostre attività si sono potenziate significa che se prima uscivamo in unità di strada soltanto il martedì adesso usciamo tre volte la settimana tutto quello che noi facciamo secondo la nostra imprescindibile filosofia di servizio che punta alla costruzione della rete si fonda su quella che è la collaborazione non soltanto con le istituzioni ma anche con le altre associazioni che si occupano di unità di strada tutto questo dando anche la possibilità a chi in questo momento non ha i nostri stessi margini di movimento di dare una mano a chi si trova in difficoltà quindi diamo anche la possibilità a chi è in casa di aiutare gli altri nonostante il lockdown